Sono assolutamente tantissime le barche che sono arrivate per costruire questo corteo acquo verso il canale Contorta Sant'Angelo. Oggi 21 settembre la festa della Laguna vede la partecipazione di veramente tantissime persone, anche comitati venuti dal resto del territorio veneziano. Gli stessi comitati che ieri per esempio sono stati sulla Ortemestre a Mira a protestare, a fare un flash mob contro un'altra grande opera, quella dell'autostrada che dovrebbe collegare Orte a Mestre contro cui si stanno mobilitando da sempre i comitati territoriali. Tantissime le barche, tantissime le persone giunte a questa prima mobilitazione dell'Assemblano Grandinavi ma anche degli altri comitati che si sono formati quando la decisione di fare il canale Contorta è stata presa quest'estate dal comitatone a Roma. Possiamo vedere anche in fondo una di queste grandi navi ancora in marittima, il canale Contorta dovrebbe essere il lavoro voluto da Costa e dall'autorità portuale per mantenere effettivamente lo scalo della marittima e le grandi navi all'interno della laguna. Una risposta è una proposta che i comitati ovviamente non possono accettare e oggi è la prima mobilitazione che fa vedere quanti sono gli attivisti che ancora, i cittadini che ancora non si danno per vinti e sicuramente continueranno a bloccare le grandi opere nei territori.